Io sono una di quelle che il sabato ama proprio mettersi sul divano a domenica e tu dici che cosa fai in questo weekend? Allora magari sento le mie amiche, no? No io vado qua, vado qua, no devo provare questo agriturismo e tu? E tu dici no, ma io... C'è una serie! Lasciatemi perdere, io sono una che ama proprio mettersi sul divano quando la bambina dorme, quindi godersi la serata o il pomeriggio con una serie, con un film, sono molto più da serie televisiva che da film, però dipende molto, la domenica c'è il pomeriggio che potrebbe essere adatto a un bel film da un'ora e trenta senza esagerare così coincide col pisolino e magari post cena una bella serie televisiva, poi se inizio la devo finire. Beh, sarebbe interessante, sarebbe interessante e chi è che non piace sognare, no? Come si dice gratis, quindi io sono una grande sognatrice, però penso sempre che per raggiungere gli obiettivi bisogna studiare, impegnarsi e niente si ottiene per nulla, quindi il sogno va bene, però bisogna metterci il carico dietro, però chissà che al futuro cosa accadrà, no? Diciamoli tutto! Diciamoli tutto!